Allora, buonasera, siamo arrivati all'ultima delle conferenze che erano previste per la mostra di Tiziano, questa è la conferenza del professor Rigon, che è noto a questo pubblico perché ha fatto diversi interventi di grande attrazione per il pubblico, che sono stati poi registrati sul nostro sito, lui è un esperto di arte veneta e ha fatto sempre conferenze sul ciclo di mostre che le scuderie del Quirinale hanno dedicato a questo genere e quindi ha fatto una bellissima relazione su Tintoretto, una bellissima relazione su Lorenzo Lotto, su Giovanni Bellini e soprattutto si è dedicato ad aspetti singolari e a temi che hanno comunque creato delle curiosità particolari e che continuano a destare un particolarissimo interesse in coloro che lo seguono. Ora oggi si occuperà, come leggete, dei ritratti e dei gioielli nei ritratti di Tiziano. Volevo ricordarvi che domani ci sarà la terza conferenza dedicata invece alla mostra Empire State e tenuta da una giovane curatrice che si chiama Laura Barreca. e l'aspettiamo. Grazie e lascio la parola al Presidente. Buonasera, grazie di essere venuti. Dopo questa lunga maratona di conferenze su Tiziano, la quale ultima anch'io porto i miei due o tre vasi a Samo e un paio di nottole ad Atene, del genio del grande pittore del Cinquecento. Ecco, cercherò di dare una cadenza anche utile alla registrazione per coloro che non hanno potuto venire, che almeno possano seguire nella diffusione informatica in rete. Vi parrà un po' un gesto originale che io cominci con un'immagine di un uomo, di un condottiero, quando il titolo invece punta l'indice sui gioielli che sono un bene suntuario tipicamente femminile. In realtà il nostro Tiziano dei gioielli dà un'interpretazione pari a tutta la globalità del suo modo di vedere la realtà per tradurla in pittura. E quindi ho voluto appunto mostrarvi Francesco II della Rovere, duca di Urbino, il quale in realtà il suo gigantesco gioiello ce l'ha. È questa stupenda corazza con l'elmo, la borgognotta, piumata, che voi vedete in alto a sinistra, e della quale Margaret Binotto nel catalogo ha compiuto un'analisi filologica molto accurata dimostrando che è di fabbricazione di Augsburg, quindi il massimo della produzione di questo tipo di armi. Quello che è molto interessante, io ho scritto il più possibile e quindi potete leggere come il duca di Urbino sia figlio di Giovanni duca di Sora e signore di Senigallia e di Giovanna figlia del celebre anche in arte Federico da Moltefeltro, duca di Urbino. Ereditò il titolo da Guido Baldo che troveremo tra poco morto nel 1504 e di cui sposa la nipote perché Guido Baldo aveva come moglie Eleonora Gonzaga, primogeni, scusate, aveva Elisabetta Gonzaga che era la zia della moglie di Francesco II della Rovere. Nei piani della mostra doveva esserci anche la moglie che vedremo tra poco, ma ragioni superiori di conservazione hanno impedito agli uffizi di Firenze, per cui adesso poi è di modo di dividere i coniugi, quindi uno da una parte e uno dall'altra, si sono presi un po' una vacanza divisoria tutti e due. Quello che è molto importante è che abbiamo una testimonianza che un certo momento il duca di Urbino reclama indietro la sua sommamente cara corazza perché l'aveva prestata a Tiziano, perché Tiziano la voleva per ritrarla. Questa capacità di quest'uomo nella sua pittura di voler trasfondere non soltanto la forma e la figura, ma proprio di restituirne la fisicità. Lo avete letto anche in mostra nelle didaschalie, questo viene molto ribadito sia dei contemporanei suoi che nostri della critica, questa capacità di allungare le mani sulla realtà per restituirne la corporeità, per cui per esempio anche il duca di Urbino era andato a posare da Tiziano, perché l'uomo ha una capacità ineguagliabile di rubare l'anima alle persone e alle cose. Allora sulla corazza del duca di Urbino noi ci saremmo immaginati di vedere anche un accessorio che non c'è. E qui entriamo in un argomento che ho affrontato sulla conferenza di Lorenzo Lotto, ma siccome buona parte dell'uditorio è cambiata, devo un attimo riassumere, anche perché è una storia abbastanza intrigante. Alla mostra di Washington abbiamo visto questo quadro di Pietro di Spagna di Federico da Montefeltro con il figlio Guido Baldo, quindi il nonno del signore che abbiamo visto a poc'anzi, il quale porta come egida sul petto un ermellino, non soltanto la cappa di ermellino, c'è proprio un piccolo ermellino rappresentato. Inoltre c'è anche Alfonso II d'Aragona che porta lo stesso ermellino, quello che invece non so, gli adepti di Carlo V portavano il toson d'oro, che era l'ariete di frisso, quello del vello d'oro, insomma. Perché questo animale aveva un particolare significato che si legherà molto nel triangolo di famiglie dei deste di Ferrara, di Gonzaga, di Mantua e di della Rovere, prima in Montefeltro e poi della Rovere di Urbino. Anche perché dovete tenere presente che a un certo momento entrerà come protagonista la grande Isabella d'Este, la quale era figlia di Margherita d'Aragona, quindi la sorella di Alfonso d'Aragona. Il che significa che queste famiglie avevano dei simboli, dei segnalaldici, possiamo definire proprio così, delle egide che tenevano come messaggio evidente di iniziazione e di immagine della propria forza. Perché l'ermellino è così? Perché vedete l'ermellino frequenta solo acque molto limpide, prati e boschi, fioriti e muscosi, detesta il fango e si lascia prendere e uccidere dai nemici piuttosto che finire nel pantano e sporcarsi. Immagine simbolica dell'uomo deciso a tutto pur di salvaguardare la pulizia della propria coscienza, come il cavaliere perfetto che preferisce subire ogni sventura anziché sporcarsi il nome e il blasone con atti contrari a lealtà, fedeltà e onore. Quindi io vi mostro l'ermellino di Vittore Carpaccio accanto a un ermellino reale per vedere proprio la corrispondenza e il fascino che questo mustelide esercitava su questi personaggi. Abbiamo trovato chi ha amato Lorenzo Lotto, quel quadro che è rimasto in mostra abbastanza a lungo, qui anche se doveva solo attraversare la strada della collezione Pallavicini e Rospigliosi, quando abbiamo letto la cacciata di Venere da parte di Pudicizia e ci siamo accorti che Pudicizia aveva sul petto un ermellino con al collo, come vedremo tra breve anche un rubino rosso. D'altra parte l'ermellino è sempre stato simbolo di Pudicizia, lo vediamo anche in un quadro di Paolo Veronese dove lo vedete accovacciato lì insieme, si vede bene, è accovacciato insieme con la castità che dà la mano alla Pudicizia mentre amore castiga il vizio. E così arriviamo alla coniuge, con lei che è assente in mostra ma è presente con la forza della sua personalità Eleonora Gonzaga, figlia di Francesco II, duca di Mantova e di Isabella d'Este. E' quindi un personaggio di un'importanza incredibile, anche amata dal marito, Francesco II della Rovere, la quale ci offre, anche se non è proprio in mostra, ma è a Firenze e Roma e Firenze hanno una contiguità proprio direi di sangue per cui non è molto difficile andare a verificare, anche la ragione per la quale non è stata prestata. Il colore di Isabella d'Este e di Eleonora Gonzaga è talmente spesso, talmente carnoso da sconsigliare nella maniera più assoluta di muovere questo capolavoro. Mentre l'altro ha una stesura molto più, diciamo, piatta, qui ci sono dei particolari e praticamente proprio quelli dei gioielli, la cui resa pittorica è affidata alla loro lucentezza sperando sempre che con i secoli i colori non virino, perché appunto i gioielli non sono un bene suntuario, ma sono dei segnali simbolici di cui Tiziano era perfettamente conscio, per cui hanno diritto anche loro dei loro ritratti nel ritratto. Eseguito a Venezia nell'inverno del 1936, in leggero anticipo il suo ritratto del marito. E qui vi do i dati principali, anche perché Eleonora Gonzaga è sorella di Federico II Gonzaga e quindi è cognata di quella Margherita Paleologo Gonzaga, consorte del medesimo, era Margherita di Monferrato. Nel Trecento un ramo dei paleologi di Costantinopoli avebbero un matrimonio per cui portarono anche il titolo con i feudi di Monferrato. Che cosa io vedo qui e che ammira Francesco II della Rovere? Che non vuole che la moglie sia da meno di lui. Lui ha il suo enorme gioiello della corazza e lei invece ha vari gioielli che proveremo ad analizzare un po' più avanti insieme col cagnetto della fedeltà. Ora succede che proprio negli stessi anni, quando Francesco II della Rovere va a posare nello studio veneziano di Tiziano, vede lì un quadro per il quale perde la testa. Non perde la testa per la donna, ma perde la testa per il quadro. Nel soggiorno veneziano all'inizio del 1936, mentre posava per Tiziano, nello studio del pittore Francesco della Rovere vede un ritratto di quella donna che ha la veste azzurra. Il 2 maggio, tramite l'emissario ambasciatore Leonardi, successivo, fa sapere al Vecelio che la finisca bella circa il tutto. Per quello, da quella volta, fu chiamata la bella. L'opera giunse a Urbino nel 1938 e adesso noi proviamo ad analizzarla anche perché io ho avuto un'avventura un po' speciale con questa signora, lo posso confessare perché era sotto gli occhi di tutti. Eravamo nel 2009 all'Opificio delle Pietre Dure, dove il quadro è stato restituito ad un splendore di lettura, come tutti avete potuto bene constatare, alla mostra. E lì io avevo dei quadri dei quali ero responsabile. Un recente acquisto della Banca Popolare di Vicenza, quale aveva acquistato questo ritratto a figura intera di Livia Barbiana di Belgioioso con la figlia Anna San Vitale, che sarebbe diventata la più grande cantante del Cinquecento, questa ragazzina. La madre invece morì subito. E quello che si discuteva era che i personaggi, cioè i restauratori erano affascinati dai gioielli e c'era questa particolare testa. E ci si chiedeva se per caso la bella che ha sul braccio, vediamo se si vede, è qui un po' scuro, invece io vedo, non si può abbassare un po' il colore del PowerPoint per caso. Ecco, ha sul braccio uno zibellino. Non solo, nelle pieghe della veste della bella ci sono tutte delle introdurre di pelle di zibellino. E ci si chiedeva se per caso il quadro non fosse stato tagliato e se potesse avere anch'esso, qui alla fine, una testa di mustelide, come aveva, vedete qua, la posa è quasi identica, aveva Livia Barbiana di Belgioioso. E allora era direttrice Isabella Lapi e insieme con Marco Cianti facemmo anche una ricerca per vedere se ci fossero delle stampe antiche e magari purare se la bella avesse un taglio a figura intera, per esempio, perché dai documenti non si capisce. Poteva essere anche a figura intera e per una ragione qualsiasi essere stata tagliata. E intanto osservavamo della bellezza delle due perle agli orecchi, vedete, e della catena d'oro fino, come la chiamavano allora. E così, sulle perle, intanto, era emerso, faceva notare, che Doretta d'Avanzo Poli aveva trovato un documento fondamentale. Il celebre Marine Sanudo testimonia che per la prima volta ad una festa veneziana del 1525, quindi circa 10-12 anni prima dei quadri che stiamo analizzando, una gentil donna, sua parente, si presentò con orecchini di perle al costume delle more. Voi capite che era come all'inizio degli anni Sessanta quando si vedevano le prime minigonne. È evidente che questo aveva creato uno shock, perché le more erano sempre delle schiave. Quindi la perla, che è questo oggetto di una purezza, di una trasparenza, come vedremo dopo, è una pietra lunare portata soprattutto ad un orecchio solo dava l'idea di essere una schiava d'amore, un qualche cosa che la subordinava comunque. E quindi io vi mostro qui delle immagini, una che non è presente, che è la Venere di Urbino, ma vi ha parlato a lungo, penso, il professor Paolucci. Questa donna, la quale è vestita soltanto di pelle, di un orecchino di perle, non sappiamo se è il secondo, e poi di un bracciale, che ha sopra smeraldi. La Danae, che invece è in mostra, lo stesso, ha un orecchino di perle, questa volta sull'orecchio destro, l'altra è sull'orecchio sinistro, e un bracciale, che adesso veniamo da una ricognizione insieme al collega Filippo Trevisani, che ringrazio per chi mi ha aiutato, perché sapete, la trasposizione nel mezzo fotografico è sempre fortemente alterante, e abbiamo visto che ci sono delle pietre nere e null'altro. Questo nella Danae, eccola qua, vediamo se riesco a farvi vedere meglio, ecco sì, da più vicino. Ecco queste donne, che poi si coricavano con un negligent pari a quello di Marilyn Monroe, che si coricava con cinque gocce di Chanel, numero cinque, come diceva lei, e null'altro nel suo letto. E appunto le perle, di cui a Edimburgo conserviamo questo quadro favoloso di Tiziano, di Venere Anadiomene, che vuol dire che è appena uscita dall'acqua, che si pettina e dai suoi capelli cascano appunto le perle, che sono un'immagine di Venere che le resume dalle lacrime di Diana che sono cadute e si sono solidificate al plenilunio nella valva della conchiglia. E torniamo a Eleonora Gonzaga, perché lei, sì, invece esibisce patentemente lo stesso gioiello di Lilia Barbiana di Belgioioso, cioè questa testa di mustelide a capo di una catena, mentre al collo ha una collana splendida di rubini, smeraldi, e poi di queste pietre scure che vedremo sono dei gagate, che vi spiegherò, che sono, vi darò anche la formula, e vedete che in testa a questo zibellino c'è un rubino, un grossissimo rubino rettangolare, mentre alle orecchie, come rivedremo, sempre queste teste dorate hanno le due perle, come fossero delle persone. È ovvio che su questo gioiello Tiziano non poteva che allungare le mani. E adesso sono emersi dei documenti per cui vi renderò partecipi di alcune novità notevolissime, tenendo presente che nulla mi invento, seguendo l'insegnamento di Chiara Frugoni, che raccomanda a noi iconografi di non fare mai un passo di troppo, ma di stare sempre aderenti alla testimonianza documentaria. Perché vedete, all'iconografia si può applicare quella formula che dice che dal sublime al ridicolo c'è un passo, dal ridicolo al sublime c'è l'abisso. Quindi bisogna stare molto attenti a non fare dei passi sbagliati. Meglio l'ipotesi che la certezza. Vedrete che poi qui Tiziano nasconde anche uno sberleffo di cui vi renderò tra poco e dotti. Allora, alla mostra stupenda di Pietro Bembo a Padova è stato proposto un quadro di Lorenzo Costa, stregante, vediamo perché mi hanno procurato da Manchester un'immagine buona, che l'estensore della scheda dice essere la stessa donna di prima, cioè Leonora Gonzaga, la verginella, prima di sposare Francesco II. E che cosa indossa? vedete che i gioielli hanno una storia, poi i gioielli sono la storia delle donne di famiglia e del loro straordinario potere. Queste erano donne eccezionali. Isabella, Beatrizia, la sorella di Isabella, moglie di Ludovico Sforza, erano donne che hanno fatto la storia dell'arte. Vedete che tra i capelli ha un enorme rubino, adesso aspettate il cursone, la solita perla a goccia, ma quello che è importantissima è questo gioiello da petto in cui vedo un rubino, uno smeraldo e questa un'agata grigia. E vedremo che tutte quante hanno un loro significato. Lo smeraldo è consacrato a Venere Celeste dell'amore puro, cioè l'amore spirituale, platonico chiamiamolo, da cui viene quel puro e sincero amore che è in tutto e alieno dal congiungimento dei corpi. Mitiga l'assillo della libidide, protegge dei morsi e dei serpenti come dicono i lapidari medievali. Ci sono parecchi lapidari che ritroveremo che danno la virtù delle pietre mirabili, come le chiamavano lui. Il rubino calma le passioni e guarisce le ferite, cioè un antidoto. Come la ferita è rossa e la passione è rossa, il suo rosso per analogia inversa apotropaicamente caccia queste dimensioni. E poi c'è lo zaffiro che è la castità per eccellenza che qui non c'è e l'agata che protegge dai morsi degli scorpioni. Vedete che tra l'altro oltre a quel pendente la supposta Eleonora Gonzaga ha una catena a doppi vaghi che è molto lunga di pietre scure nere. Procediamo e vediamo che questo binomio smeraldo rubino tra l'altro sono smeraldo la speranza e rubino rosso la passione che si mitigano a vicenda sono un luogo comune ripetuto da Tiziano. Le didascalie le leggete questa che è salita è la vigna vecelio vedete che tutte Isabella del Portogallo hanno un rubino sopra scusate uno smeraldo sopra un rubino sotto e poi una perla. è la triade anche la piccola Clarice Strozi invece in cui si rovescia il binomio guardate che è verde adesso spero che la si veda come verde sì abbastanza comunque è verde perché ho verificato anche diviso da poco tempo che sono invertiti cioè calma prima le passioni le bambine e sotto ha la speranza comunque sono tutti gioielli di un'importanza unica e giungiamo ad un punto fondamentale la zia di Eleonora Gonzaga che ha introdotto nella nostra storia questo gioiello tempestato di gemme e traforato e lo vedremo tra breve era appunto questa Elisabetta Gonzaga la quale la quale viene cooptata dal Betussi che è un poligrafo che alla metà del Cinquecento traduce quel libro che era lettissimo di Boccaccio il Mulieribus Claris talvolta si chiama Claris Mulieribus e che trovate su internet anche in traduzione e che è interessantissima perché fa una ottantina di cammei di donne illustri del passato sia nella virtù che nel vizio e Betussi ne aggiunge due e tre di contemporanei tra queste aggiunge quella Eleonora Gonzaga che aveva sposato Guido Baldo da Montefeltro che rivediamo bambino e che vediamo invece adulto nel ritratto degli Uffizi perché viene proposta come modello massimo della virtù più agognata delle spose che è la pudicizia ora io devo fare un appunto grave ai miei colleghi perché usano con una disinvoltura e in scambio castità e pudicizia abbiamo visto che sono due cose completamente diverse casta è la vergine da sposare pudica è la donna maritata lo è Lucrezia lo è Laura che trionfa in Petrarca sul carro perché Laura era sposata lo sono tutte queste donne e il contegno è la forza nel tenere insieme la famiglia e l'amore del marito ora era successo che per 15 anni Elisabetta Gonzaga aveva dichiarato di non avere figli perché era lei sterile invece poi prima della morte nel 1502 si scoprì che era il marito impotente tant'è vero che qualcuno l'aveva quasi indotta e obbligata a chiedere l'annullamento del matrimonio e lei si rifiutò e quindi vedete che in Raffaello la conoscete benissimo indossa e ringrazio la mia collega degli Uffizi che proprio pochi giorni fa mi ha mandato questo particolare perché il quadro in questo momento è in Giappone quindi io non potevo andarlo a rivedere con occhi diversi o con gli occhi con i quali voglio che lo vediate voi vedete che c'è questo scorpione che ha la coda girata a destra quindi questo è già positivo perché se ha la coda girata a sinistra è simbolo dei nemici della fede è per esempio nei vessilli dei giudei che crucifiggono Cristo è già un fatto positivo e incastona una pietra che probabilmente è proprio l'agata la quale si dice che proteggesse dal morso degli scorpioni sempre nella mostra di Bembo è presentata una medaglia con l'effigie di Eleonora di Elisabetta Gonzaga della Romere nella quale sul retro c'è una Danae le abbiamo appena viste alla quale Salvatore Settis ha dedicato un magnifico articolo come immagine stessa del pudore della pudicizia voi sapete che Danae era stata rinchiusa in una torre perché il padre aveva avuto la profezia che il figlio che le sarebbe nato lo avrebbe ucciso che è Perseo però non aveva Perseo non aveva calcolato la potenza di Giove che di fatti cade sul suo grembo sotto forma di monete monete che lei tiene guardate bene e poi serviranno a Perseo per fonderle e farsi lo scudo con il quale taglierà la testa Medusa quindi vedete che loro si divertivano e praticavano tutti questi percorsi Lucrezia è dell'antichità la nostra Lucrezia che ha fatto nascere la Repubblica Romana per colpa di Tarquinio è l'emblema stesso della Pudicizia Nupta Pudica Matrona Virilis la definisce Ovidio nei fasti e la vediamo in un quadro di Francesco Francia che ha al polso un bracciale di smeraldi e di rubini e nel famoso quadro di Lorenzo Lotto che vedete ha un rubino enorme una perla e sempre l'oro fino perché l'oro era simbolo di duttilità ma nello stesso tempo anche di incorruttibilità l'oro è inscalfibile nec ulle impudica Lucrezia esempio vivet quindi la cartiglia che è messo lì e che questa nobildonna mostra il disegno di Lucrezia che si sta suicidando con lo stesso pugnale con la quale Tarquinio l'ha minacciata è sempre un'immagine appunto di Pudicizia la Pudicizia e i suoi emblemi che abbiamo visto già in Lorenzo Lotto qui richiamo l'immagine dell'ermellino che porta il rosso perché è mitigare le passioni il contegno della sposa tra l'altro Eleonora della Rovere con il marito Francesco aveva avuto qualcosa come dieci figli ne sopravvissero soltanto quattro perché la mortalità infantile era immensa il fuoco vivo della torcia che vedete qua eccolo qua paragonato al rosso del rubino che questo personaggio vestito di verde matrimoniale porta due volte è simbolo dell'infinito e dell'aldilà lo dicono il vescovo Marbodo di Rennes in De Lapidibus e soprattutto Carlo Leonardi nello Speculum Lapidum pubblicato a Venezia nel 1502 dove compare per la prima volta la parola Rubeus come attributo perché se voi cercate nei Lepidari medievali la parola Rubino non esisteva era un aggettivo Rubeus e vedremo adesso di Calcedonio vi ho preparato anche Desunto insomma la formula e passerà per Antonomasia il Calcedonio Rosso si verrà per chiamare Rubino ma prima non c'era quindi per Lorenzo Lotto e la data il 1530 era anche questa una novità allora riguardo a quella la testa di Mustelide in grembo a Eleonora Gonzaga con il Rubino che gli marca la testa adesso è emersa una novità di cui vi rendo partecipi il fratello di figlio di Isabella d'Este e fratello di Eleonora della Rovere era Federico II Gonzaga il quale appunto vi ho detto sposa Margherita Paleologo che vediamo ritratta da Giulio Romano in un quadro di Upton Court ebbene Sally Hickson ha scoperto una serie di documenti di un'importanza unica dai quali desume che l'invenzione di questa testa di Mustelide sia della stessa Isabella per farne dono a Eleonora Gonzaga cioè questo pellicce di Zibellino con la testa reale faceva anche impressione vi ricordate la lucina di Lorenzo Lotto che aveva soltanto la testa normale di Mustelide e veniva sostituita da questo gioiello preziosissimo che si caricherà di simboli la moglie di Federico II usò la cultura materiale soprattutto come strategia per crearsi un'immagine pubblica e politica con un mecenatismo laico che si concretizzò spesso nella commissione di oggetti che rivestissero una funzione di veicolo di amicizia e di segno di effetto tra essi in primi gli zibellini prodotti e decorati per lei a Venezia documentati in carteggi compresi tra il 1539 e il 41 c'è un precedente che ho scoperto da poco questo Lelida Foligno ha inciso delle lastre d'argento e vediamo che la cognata di Isabella d'Este terza moglie di Alfonso Gonzaga era Lucrezia Borgia che qui vediamo con Ercole II il suo figlio ed erede del Ducato che si presenta con una damigella a una benedizione ufficiale tenendo in mano vedete questa pece di bestia morta che a noi fa anche morire da ridere perché in una cerimonia ufficiale queste due dame che vanno che sulla destra invece che dare la mano tengono questo pece di gatto morto deve essere stata una cosa assolutamente anche un po' fastidiosa insomma perché sono delle donnolette cioè degli zibellini e ne abbiamo la prova perché Bernardino Luini fa un ritratto di dama che vedete tiene proprio in mano la donnoletta allora io mi ero posto anche il problema se fosse viva siccome invece morde da morire perché immaginate è un carnivoro anche piuttosto feroce è chiaro che circolavano con questa testa con questo corpicino evidentemente Isabella che era una donna di un gusto impareggiabile basta vedere cosa la storia dell'arte le deve per commissione avrà detto insomma rendiamole un po' più decente e facciamole una testa tutta fatta di oro tempestata delle famose gemme perché la donnola e i mustedidi in generale sono l'emblema stesso della pudicizia allora nonostante tutto quello che si è detto di Lucrezia Borgia poi fu una buona moglie in senso di quell'epoca lì ma insomma fu una buona moglie e qui allora io vi mostro come la donnola sia una bestiolina di 16-25 cm con coda di 4-6 che l'ermellino è un suo mutante bianco quindi ancora più puro il furetto invece è molto più grande ed è quello che ha la Cecilia Gallerani di Leonardo che non è è un mustelide ma non è un erbellino poi c'è la martora che era più a portata di mano e invece c'è lo zebellino che era il più presato di cui vedete nella parte alta la reale che soprattutto compreso nella Russia e che quindi affluiva in abbondanza a Venezia aggiungete che meglio di Filippo Trevisani che ha diretto Mantova per sei anni non lo sa nessuno che a Mantova alla corte di Gonzaga c'era veramente il culto per le pietre preziose tant'è vero che nel nel Parnaso di Mantegna il Pegaso che sembra questo animale protostorico quasi un mastodonte un mammut lanuto ha attorno al collo e soprattutto sulla fronte e sotto il petto ha degli smeraldi favolosi che se sono chiari mi ha insegnato proprio minuti fa potrebbero essere degli spinelli ecco e poi ci sono trasparenti dei ci sono degli zaffiri degli smeraldi e dei rubini quindi bastava un po' già prefigura quel testone lì la testa di un mustelide bastava combinare le cose questo era dello studiolo di Isabella d'Este quindi se lo vedeva sempre sotto gli occhi e si sarebbe creato questo nuovo gioiello il gibellino un efimero non efimero degno quindi di un ritratto come persona vi ricordo che la persona in latino è la maschera con la bocca per sonare perché aveva la bocca come una specie di imbuto di megafono non è una semplice esibizione di un prezioso bene fungeva dei significanti visivi dotati di significato allegorico simbolo adeguato di gravidanza e di cintura di fertilità la procreazione Pusa e la sposa Pudica quindi il dono molto probabile di Isabella d'Este e Leonora Gonzaga era quello che poi tra l'altro le ha portato buono e ha portato buono anche a Tiziano perché i figli ne ha avuti molto è stata una sposa Pudica e lodata e in più la cognata ne farà un proprio come si potrebbe dire un marcatore di famiglia genetico perché cercherà di procurarne tutti i possibili vedete che c'è questa lettera di Maria d'Aragona d'Avalos e invito una testa di Gibellino procurata a Venezia Venezia era il principale centro di concia per i zibellini russi i varoteri erano appunto la scuola in campo Santa Margherita che conciava queste pelli mentre gli orafi tra i quali c'era un Giorgi eccellente nell'arte Vicenza è sempre stato un centro orafo che era l'emissario agnello amico di Tiziano perché Maria d'Aragona d'Avalos le commissiona per don una lettera di Margherita Gonzaga a Maria d'Aragona quindi erano parenti di bisnonni le commissioni per Giovanna Gonzaga e per Vittoria Colonna propone due fogge di questi testi di Gibellino una sbusastra cioè vuol dire tutta traforata e l'altra tutta serrata perché spesso in queste teste mettevano dei muschi profumati per far fuggire le pulci o perlomeno per dare un profumo speciale alle loro persone la trovate Mustela e Muschion si somigliavano facevano questi giochetti di omofonia per cui c'erano questi passaggi e tutto nasce dalla letteratura greca e dal cristianesimo medievale la Sally Haskins purtroppo fa solo la parte antica che io vi riassumerò in pochissime parole ma non entra nel cristianesimo sulla simbologia di questi Mustelidi i Mustelidi scendono tutti da Galantis in greco Mustela cioè vuol dire Donnola si dice Egalè Egalè cioè come quella Gallerani che era la serva di Alcamena la quale per ingannare Giunone che non voleva far nascere Ercole disse è nato è nato il bambino nacque perché Giunone si mise le mani nei capelli sciogliendoli dalle ginocchia che impediva Alcamena di farla nascere qui vediamo delle immagini delle metamorfose di Ovidio in cui vedete che c'è Lucina c'è il topo e c'è la Mustela quella piccoletta qua che è scritto Galantis e da allora Giunone si arrabbiò con la serva le tirò una ciabatta addosso e la trasformò in Galè che vuol dire appunto Donnola colei che dice la verità perché nemica acerrima di rettili di topi ha una spiccata cura parentale sposta continuamente i suoi piccoli per meglio proteggeli gravita attorno alle abitazioni è inventrice del linguaggio perché avrete capito che poi Sant'Efrem ne fa l'emblema della Madonna perché si diceva anche se Plinio lo nega che la Donnola concepiva per l'orecchio e partoriva per la bocca e quindi è come la Madonna che ha concepito il Logos per l'orecchio e ha partorito il verbo che è il Cristo e quindi la Dominula la Donnola è Ancilla è piccola donnetta di casa e conoscendo questa storia soltanto questa cultura raffinatissima basta vedere il Parnaso o gli altri quadri di Mantegna per Isabella d'Este ne avevano fatto come un emblema d'altra parte la Madonna qui vediamo un Pietro Lorenzetti di Arezzo è spesso vestita con le codette di Donnola e in più scusate un momento vi mostro il Van Eyck perché sapete e lo abbiamo visto anche nell'annunciazione di San Salvador di Tiziano c'è sempre un oggetto di vetro o l'ha vetrato o l'oggetto di vetro perché si diceva che la concezione virginale della Madonna è simile a quella della luce che passa attraverso il vetro senza alterarsi la Madonna concepì rimanendo vergine come il vetro che non si alterò per noi è un mondo lontanissimo il mondo delle analogie ma ha funzionato fino alla fine del Settecento allora rapidamente adesso così il lavoratore si è rifiata vi faccio vedere le ultime scoperte perché di questi gioielli di gibellino di teste ne sono saltati fuori a Iosa e tutti nell'ambito ramificato della famiglia Gonzaga cioè sembrava che avessero un copyright per averlo inventato e passava sì ovviamente benissimo ai dallarovere o agli estensi ma poi da questi filtravano perché era obbligo che questo rarissimo gioiello fosse donato di madre in figlia la prima genitura della figlia perché erano tra l'altro rarissimi credevamo che fossero quasi tutti spariti invece come si dice adesso me ne stanno saltando fuori a ciuffi dappertutto ecco allora vedete che ritratto di Livia Barbiana di Belgioioso eccolo qua questo gioiello ha gli occhi sempre neri di Gagate che è quello che fa scappare i serpenti e tempesta ha un rubino al centro della fronte eccolo qua poi sempre le perle schiavonesche appese alle orecchie eccola qua come la sua perla di sposa fedele ecco e poi abbiamo per esempio un ritratto di Livia Portotiene di Veronese mentre questo è il ritratto di Cicilli e Chiaricati Franceschini ecco l'altra è a Baltimora e questo è sempre nella Banca Popolare di Vicenza io ho convinto il presidente a comprare parecchi quadri con questo gioiello che poi si sapeva erano stati anche fabbricati a Vicenza e che Tiziano conosceva benissimo perché frequentava i Varoteri vedete sempre lo zibellino ecco qui una dama con sgirato di tintoretto che avete visto due anni fa e di cui purtroppo la testa è stata tagliata a metà poi la Camilla Gonzaga Rossi di San Secondo di Parmigianino quindi una parente stretta ecco vi mostro i particolari e poi il ritratto di Bianca Ponzione a Guizzola della Sofonisba a Guizzola Giavan Battista Moroni il ritratto di Dama di Dresda attraverso il gioiello vedrete che riusciremo a identificare il personaggio accadrà quindi il contrario la vigna fontana comparsa sul mercato antiquaro questa Laura Gonzaga che non si hanno riusciti ad acquistare perché è andata a un prezzo folle perché il vestito è qualcosa di stupendo e novità delle novità l'ultima volta che sono venuto a Roma avevo avuto un mezzo sentore alla galleria Doria Panfili questa dama e ringrazio Olimpia Marini Clarelli avermi procurato la fotografia a tempo di record perché ho detto qui i romani almeno una testa di Gimbellino se la possono andare a vedere De Visu qui comoda comoda e nella sala prima della cappella eccolo qua vi vedete i due le due teste di Gimbellino tempestate di gemme e vedete un'altra scoperta sempre la vigna fontana che forse le amava sapete le donne amano i gioielli eccoli qua che lo vedete che addirittura la regina di Saba quando arriva dal re Salomone porta una serie di doni tra i quali porta anche la sua testa di Gimbellino come una delle cose anche simbolo della sua intemerata pudicizia che poi sappiamo che è andata a finire in un altro modo ma insomma non importa eccole qui ritratto di dama di 30 anni ecco i vari Gimbellini sempre con gli occhi neri e le perle all'orecchio un quadro particolarmente interessante è il ritratto della famiglia Gozzadini sempre di Lavini a Fontana in cui la madre che è quella che sembra più giovane dona al momento delle nozze alla figlia la testa di Gimbellino oppure in questo tacquino di annotazione di uno studente tedesco intitolato Morris Italia vuol dire come si vestivano in Italia a Padova della Yale University vedere madre e figlia quindi la madre e la sposa entrambe con questo gioiello che ora vediamo di Milik proprio rilevato un rilievo con la pelle e la testa dorata questo che è di Baltimore che secondo me però non è autentico è stato rifatto invece questo splendido esemplare della collezione Tisse in cristallo di rocca e museruola di rubini vedete quindi eccezionale e proprio 15 giorni fa un collega francese mi manda una testa di Gimbellino in avorio che trova al museo di Provence e lo sberleffo di Tiziano perché questo gioiello che chissà come veniva esibito lui che cosa ne ha fatto nel grembo di Leonora della Rovere gli vedeva fabbricare cosa ha fatto lo ha semplicemente rovesciato per cui è talmente ridicolo vederlo con le perle che invece che essere pendenti vanno all'indietro questa è una caricatura non un ritratto di gioiello e così abbiamo finito la parte più consistente della conferenza e abbiamo visto come dal soggetto siamo arrivati al gioiello ora proviamo a fare il contrario dal gioiello al soggetto e vedremo che esamineremo due episodi di Tiziano in cui dalla presenza di un gioiello sono arrivato alla proposta udace a due proposte udaci che vi farò in questa sede non è un convegno su Tiziano però sapendo che poi in rete anche i colleghi lo vedranno spero che abbiano pazienza di meditare il famoso rompicapo che viene eviscerato in una scheda esemplare nel catalogo di Luisa Tardi che vi invito a leggere perché è veramente sembra un saggio di storia della critica interpretativa in cui credo che giunga a una definizione molto buona la venere pudica che è anche pulcretudo è con eros sulle sue ginocchia cioè l'amor passionale e anteros sulle sue spalle vedremo che correggeremo un attimo eros è l'amore carnale anteros è l'amore spirituale lei è in veste di verticordia era il tempio che c'era qui a Roma nella quale le vergini portavano quello famoso in cui abbiamo appena letto quell'amore spirituale lungi dalla congiunzione delle carni perché questo sicuramente è un quadro a destinazione matrimoniale forse era anche un capoletto lo mettevano come quello di Lorenzo Lotto a capo del letto perché così si meditava sulla pudicizia le altre due che sono le altre due delle tre grazie perché venere è una grazia sono voluptas e castitas e sono le ragazze che stanno inutilmente apportando trattenendo le armi per i quali eros carnale amore è tremendo qual è la terribilità di amore che è sempre bambino è sempre sventato è sempre cieco perché è bendato colpisce a caso e con le sue frecce e con il suo arco che tanto fanno male colpendo a caso però la venere pulcritudo ha sulla testa un diadema gioiello semplicemente splendido e proviamo ad analizzarla da vicino che sia parente stretta se non la madre di lucrezia lo dimostra il fatto che il quadro della gemelle gallerie di vienne presenta una lucrezia aggredita da tarquidio che ha la stessa veste soluta la stessa negligee che ha questa venere qui quando tiziano in precedenza aveva fatto due assalti di tarquidio a lucrezia di ben altro tono tra l'altro il secondo ve lo mostro qua ha la donna ha uno smeraldo all'orecchio quindi un segnale di particolare l'abbiamo visto di particolare valenza e quindi tornare alla pudicizia e abbiamo visto quanto lucrezia sia la nupta pudica la sposa pudica era importantissimo da parte di tiziano nel frattempo quando analizzai qui per voi l'imeneo che il ride a venere mi ero accorto anche quella aveva un grande diadema mi era sfuggito che Cesare Ripa a posteriori aveva presentato la figura della difesa contro i nemici come donna che porta in testa un randamento contesto di queste pietre preziose da miante di gagate d'agata e di diamante che era indivincibili e i piedi vi sia una donnoletta eccola qua qui vediamo la corona di venere vi sia una donnoletta che tenga in bocca un ramo di ruta perché si diceva che la donnola se era punta dai serpenti e mangiava la ruta le passava il veleno noi lo sappiamo che parenti dei mustelidi sono le manguste lo sappiamo tutti insomma che se vengono punte dai cobra il danno del veleno micidiale della rettile è ridotto al minimo quindi vedete che anche la venere di Lorenzo Lotto ha al centro una pietra nera che è un gagate poi ci sono smeraldi e rubini e poi qui ci sono anche gli zaffiri che erano per eccellenza la pietra della castità e lo vediamo di fatti qui raffigurato in tutte le sue componenti al centro del petto c'è uno stupendo rubino cabochon sopra la testa qui c'è un'altra pietra nera e sotto la freccia adesso ve la cancello c'è un altro rubino quindi il riassunto è questo il rubino rosso è un corridone ossino di alluminio con cromo e ripeto calma le passioni e rimagine le ferite fuoco metafisico simbolo dell'infinito e dell'aldilà lo smeraldo il silicato di berillo e di alluminio si legge abbastanza bene sì ecco mitica l'assilio della dibidine ridà la vita e protegge dei morsi dei serpenti lo zaffiro che è un corridone blu che qui non c'è indaco che va dall'indaco all'azzurro chiaro trasparente è una pietra similli macello la gemma delle gemme chi la porta deve essere casto quindi è bene non regalarlo alle spose perché sennò non nascono i figli come minimo insomma ecco poi l'amiante resistente contro ogni malia dei maghi l'agata che rende fecondi e protegge dei veleni dei rettili e degli scorpioni e il gagate idem che è ditta etite aquilina che è una pietra nera perché le aquile le portavano nei loro nidi si diceva per difendere i piccoli dai morsi dei loro pulcini insomma dei morsi dei serpenti eccoli qui quindi tutte queste immagini e il nostro amore quindi è ben protetto sotto questo diadema ha le ali variopinte quindi immaginarie ho trascritto i testi riportati da tardi che come gemmatas aureas alas a sugli omeri queste grandi ali di colori mille e avanti di questo passo poi c'è dall'altra parte vedete l'esemplificazione sempre anche Rubens che copia Tiziano fa le alette variopinte non sono ali di cardellino sono proprio delle ali arcobaleno come si addice e come si addice anche all'anteros meditabondo che è già buono e che è più grande di eros come prescriveva per esempio l'alciati che ha queste alette variopinte eccole qua che poi aperte in controluce le vedete in mostra questi due quadri tra l'altro c'è la fortuna che sono una parete opposta all'altra quindi vi invito a tornare a vederle la mostra con occhi nuovi e vedrete che in controluce sono pronto delle ali fantastiche piccole alette ali fantastiche e variopinti quindi possiamo riassumere che pulcritudo Venus Armonia che è la figlia di Venere e Marte ha di fronte a sé Voluptas che è figlia di Amore e Psiche e Castitas Diana con le frecce a riposo tra l'altro con il collega Trevisani ci siamo accorti che il castone che è sopra la spalla di Voluptas è uno smeraldo quello insomma che mitiga le passioni e la libidine d'altra parte la corona in testa chi è che ce l'ha? Ce l'ha proprio Armonia questa è l'armonia come la esemplifica a posteriori Cesare Ripper che con sette gioie tutte uguali il vestimento è di sette colori in Tiziano non sono proprio sette guarnito d'oro e di diverse gioie quindi la pulcritudo Armonia può essere veramente anch'io do il mio contributo all'interpretazione di questo quadro del quale eccolo qua però io do un'altra interpretazione siamo proprio sicuri che con questi precedenti Venere stia bendando amore quando voi fate un nodo non fate quel gesto quel gesto a capi lunghi è perché lo state sbendando e questa è la proposta che io faccio agli studiosi perché di fronte a una sposa che sta affrontando il matrimonio l'amore passionale va ridotto alla vista cioè deve benvedersi liberarsi dalle passioni e quindi vedete che sta facendo questo gesto perché gli sta semplicemente levando la benda come trovo in amordomato sempre di Cesare Ripa il quale tra l'altro ha un uccellino che si chiama Cicno che ho scoperto che cos'è e lo pubblicherò tiene le armi sotto i piedi come lì ci sono le due damigelli che lo tengono la clessidra della fugacità e vedete che cos'è in Granbo la benda che gli è caduta dalla faccia la lunga benda che è quella stessa che ha Venere in mano d'altra parte questo Histeron Proteron come si chiama in filologia il successivo e il precedente c'è e soprattutto nelle cantonate che tutti gli iconografi prendono sul Bacco e Arianna scrivono Bacco che incorona Arianna proprio no perché la corona Arianna ce l'aveva già perché lì l'aveva regalata Teseo e per esempio Tiziano lo sa nel suo famoso quadro adesso vediamo se trovi il cursore ecco credo che nessuna macchina fotografica riesce a fotografare questo che è il più bel quadro secondo me del mondo che ha la luce più intrigante che esista Bacco arriva e può sposare Arianna perché Venere gliel'ha tolta l'ha buttata in cielo provocando il catasterismo cioè la trasformazione in astro e quindi lei è libera e quello che ho scritto e l'abbiamo visto l'ultima volta con Tintoretto Venere toglie Arianna la corona e quindi Bacco la può sposare e qui due immagini a palazzo Memmo Ruspoli e Memmo Zucchi in cui le due immagini delle costellazioni della corona boreale e della corona astrale dimostrano proprio che Bacco sta togliendo la corona a Venere quindi bisogna rovesciare i termini come io ho tentato di fare nel discorso che vi ho fatto mi mancano pochi minuti e affrontiamo affrontiamo il quadro dei quadri che è quello che chiude la mostra che io conosco per fortuna del 1966 perché facevo allora giovane studenti il corso su Tiziano con Rodolfo Pallucchini il quale ci disse alla fine di marzo ragazzi ci vediamo dopo le vacanze di Pasqua e vi farò una sorpresa e in quelle vacanze riuscì a raggiungere il castello di Cromerjige come mi insegnò a pronunciare bene allora che era questo castello dove già era questo capolavoro e arrivò con il primo servizio fotografico di questo immenso capolavoro che è una contaminazione del terzium datum qui ho una novità assoluta la scheda di Attardi è meravigliosa però io credo di aver individuato la fonte sicura di questo quadro che è Igino le fonti presenti erano tutte Ovidio il quale separa i due episodi il primo è lo squoiamento di Marsia nel sesto libro e poi c'è la gara con Pan alla presenza di Mida nell'undicesimo libro tanti scrivono squoiamento di Pan ma come potrebbe mai Apollo squoiare un altro dio il dio del tutto poi Pan lì invece lui non se la prende con Pan che è un suo pari se la prende con quelle betone di Mida che era considerato il re della stoltezza e lì fa crescere le famose orecchie d'asino e la metamorfosia viene lì invece con Marsia che è un semplice gregario un satiro che ha osato col suo flauto a sfidare Apollo lì la punizione avviene per scorticamento ecco qui che sulla testa di Mida c'è una corona quasi identica a quella della venere pudica che abbiamo appena visto vedete che però qui non c'è il flauto c'è la syrinx che è tipica di Pan Marsia sfidò Apollo con il flauto che può essere di due tipi lo zuffolo che è dritto o trasverso che è quello che è il diabalos che è quello che aveva inventato Minerva il diaulos scusate e invece qui mi trovo con una con una silinga mentre quello che sicuramente per me è il figlio di Apollo Orfeo sta suonando una lira da braccio che abbiamo visto proprio nella mostra un esemplare favoloso la mostra di Bembo in questo esemplare di di Vienna che è quello di armonia con le sette corde come la lira ha sette corde così la la siringa ha sette canne una è la Rundo l'altra è proprio la Rundo e la Calamis la prima è la Rundo che vuol dire canna l'altra è la Calamis perché sette perché sette sono i pianeti quelli che fanno la musica delle sfere la musica dell'universo secondo il testo di Cicerone del Samnium Scipionis producono una musica silenziosa che è la musica dell'armonia del creato e quindi la musica è proprio questo neanche a farlo apposta la lira da braccio esposta a Padova porta questa etichetta scritta in greco il canto è per gli uomini il medico del dolore sembra proprio appiccicata a questo quadro Orfeo suona perché il dolore straziante di Marsia che ha usato troppo non sia insopportabile ma in questo caso che cosa ci fa Mida che secondo Ovidio non c'era allo squoiamento di Marsia c'era invece per Igino Igino dice allo squoiamento di Marsia c'è Mida e la prova che la fonte è Igino è il fatto che ad aiutare Apollo a squaiare Marsia è un testo che poi viene ripreso da Filostrato minore c'è un barbaro un'uscita che Ovidio non nomina quindi il barbaro per eccellenza era l'uscita crudele sadico che leggeste il testo di Filostrato che gode nel poter trar fuori da questo poveretto che veniva paragonato eccolo qua addirittura a Socrate che era brutto fuori e bellissimo dentro anche perché Igino dice che dal sangue di Marsia nasce un fiume mentre tutti gli altri testi dicono che il fiume Marsia nasce dalle lacrime dei satiri che piangono lì presenti e quindi vedete che in questa crasi dell'Ecfrasis come proprio fusione delle varie fonti noi troviamo che da sempre la contesa assume il carattere allegorico del contrasto tra l'equilibrio della ragione e la passione degli istinti cosa fa qui con la corona gemmata Mida che sembra meditare con la dimensione melancolica di una telecamera interna che sorveglia l'andamento del mito in tutte le sue versioni è veramente un quadro altissimo perché è uno di quei rari quadri in cui l'arte si significa non significa è il processo creativo nel suo farsi con tra l'altro alle spalle un pan irridente guardate la bocca con quei denti che sta arrivando con un secchio che è pieno o vuoto come le valigie che vediamo sempre al cinema che mi domando sempre ma sono piene o vuote che le portano con tanta leggerezza anche quando stanno per intraprendere un viaggio e potrebbe essere pieno di vino perché cartari ricorda che un satiro e forse pan aveva detto che per gli uomini sarebbe meglio morire che vivere un uomo che è giunto alla sua età sta meditando proprio questo eccolo qua il secchio anche perché vedete c'è un fatto fondamentale che a portare la corona nell'esegesi del cartari è il libero arbitrio il quale secondo il detto di Pitagora esamina la y e porta la y perché il libero arbitrio deve decidere tra i due corni della questione e nessuno ha fatto notare la posa spericolata di Marsia che è messo a y è messo proprio rovesciato per cui Mida non sa scegliere il libero arbitrio come massimo senso della libertà di un uomo che medita non soltanto sulla funzione della letteratura non soltanto sulla funzione del mito rappresentato che lui chiamava poesia ma soprattutto medita sulla potenza della pittura che è forma e colore anzi forma del colore con la sua corona gemmata in testa vi ringrazio grazie Grazie a tutti.